ciao amici vediamo come fare questo dolce veloce veloce una sbriciolata di mille foglie bene ho comprato questo foglio di pasta sfoglia già pronta ma se volete vi metto il link sopra per farla da soli questa è vegetale quindi è un pochino più leggera di quella normale metto un'anticchia di farina perché voglio allargarla un pochino così la rendo più sottile in questo modo ok nel frattempo ho acceso il forno a 170 gradi ventilato sto usando un altro metodo di registrazione vediamo se funziona perché l'altro programma mi mangiava le sillabe non andava molto bene ho bucherellato con la forchetta e adesso metto una spolverata di zucchero semolato eccoci qua ho messo sulla teglia e vado ad infornare 15 minuti massimo 20 deve appena dorare vedete si alza un pochino la sfoglia ecco perché bisogna bucherellare questa è una crema chantilly ho fatto mezza dose di crema pasticcera poi ci ho messo la panna ed ecco la crema chantilly ho tagliuzzato le fragole ma qui ci andrebbero le fragoline io non me le trovavo la prossima volta lo faremo questo dolce con le fragoline ho tagliato la pasta sfoglia come vedete ho tagliato i bordi che mi serviranno poi per sbriciolare questa è una bella porzione ci si può mangiare in due quindi con un foglio io ci farò due porzioni ma ci si mangia tranquillamente in quattro faccio uno strato di crema chantilly ci metto le fragole senza bagnare niente perché poi con l'umidità nel frigo e poi è bene che rimane bella croccante ecco qua come vedete spezzo quindi sbriciolo vedete com'è bella questa sfoglia è venuta proprio bene sbriciolo per fare un po' di spessore sulla crema basterebbe anche così però ci metto un altro un altro strato io di un altro quadrato di pasta sfoglia metto ancora dei pezzettini questo dipende dai vostri gusti se vi piace un pochino più alta fate come me mettiamo un altro strato di crema chantilly meravigliosa crema chantilly non ricordo se ho un video sul canale poi vedo al limite ve lo posto eccoci qua mettiamo ancora altre fragole queste sono saporitissime sono fragole di un contadino le mie fragoline ancora non arrivano ma la prossima volta lo faremo con le fragoline con le fragoline di bosco bene mamma mia che buona assaggerai subito quindi dopo aver sbriciolato ancora un po di pezzettini di sfoglia così metto anche un pochino intorno che profumino buona buona continuo ne metto ancora un'altra pochina quindi questo è un dolce che potete fare anche al momento vi preparate prima la sfoglia cotta e preparare tranquillamente al momento questo dolce questo cioccolato l'ho sciolto a bagnomaria l'ho messo dentro questo recipiente con il beccuccio qualche disegnino qui divertitevi fate a piacere bene amici vi ringrazio della visione e io naturalmente vado ad assaggiare questo meraviglioso dolce ciao a tutti